fisico, chimico, spirituale, quello che è insomma un contatto, un contatto si prova il sole è con noi, il sole è con noi ma il sole gli dice ok io sono con voi ma adesso voi dovete fare la vostra parte, io faccio la mia, io vi do la luce voi però date il camera, è bellissimo, è un fratello, è fantastico I am Elvis Presley, I am a macho man, sono Napoleone, io sono un'impressione cominceremo ad andare a cercare il suono di questo live e vedere cosa succede sono molto contento di andare in giro a suonare, sono molto contento anche perché so che c'è una grande attesa, faremo tutti esauriti, sono quasi tutti esauriti già a tutti i concerti quindi questo per me è come andare a una festa dove sei stato invitato e tutti ti aspettano vuol dire che vuoi andare con un gran bel regalo